Benavoli, equilibrio d'arte maturo e raggiunto. Questa è la seconda volta che utilizzo termine raggiunto. Ho già utilizzato la linea precedente, ma segnala lo standard qualitativo mai sicuro. Artista completo, capace di definire la misura d'arte e raccontare la creatività. Cioè in Filippo c'è sempre la volontà di raccontare l'arte, cioè di esprimere un'avventura culturale di racconto.